sale l'attesa per poter vedere vanessa ferrari manca pochissimo la ginnasta brasiliana nel mezzo smezzato fick e poi ancora un doppio in avanti serie acrobatiche che molte ginnaste negli ultimi tempi con il nuovo codice dei punteggi mettono in atto ancora una serie acrobatica da lontana flick tempo triplo avvitamento dal fli flac uno zucara un doppio indietro con avvitamento chiude con il doppio carpio non altissimo questo ultimo salto bisogna aprire il corpo un attimo prima di toccare con i piedi far vedere che c'è sicurezza negli arrivi è un passetto poi al momento del contatto un buon punteggio di 5 50 di partenza per lei nella qualifica 3 g7 33 il punteggio finale potrebbe mantenere questa posizione e questi valori di partenza vediamo questa parte con l'uno e il mezzo smezzato indietro e il tabac che ricordiamo è una salto indietro con mezzo giro un doppio avanti clic tempo triplo avvitamento il doppio indietro con avvitamento bene la spinta nei fiflac le braccia larghe pochino più delle spalle spinge molto forte con le braccia nell'azione di corbet che è importantissima per avere una grande reazione di elevare bene le spalle ed ecco ancora il doppio indietro questo è l'esercizio di Thais Santos anche lei giovanissima ginnasta brasiliana e 13 e 666 il punteggio abbiamo detto che invece in qualifica era